Retroscena Mourinho, il K.O. dell'ha vissuto accanto allo spogliatoio. Non lo ha visto praticamente nessuno. Ma io se Mourinho all'Olimpico c'era. Ha visto la partita in una saletta nella pancia dell'Olimpico. Adiacente allo spogliatoio, ed è rimasto in disparte. Ha vissuto il pre-partita con i suoi giocatori. Ha fatto la riunione, è arrivato allo stadio con la squadra e poi è rimasto solo. Il silenzio di Mourinho sui social per adesso non ha detto né scritto nulla sui social. Anche per rispetto al silenzio stampa deciso dalla società, dopo la conferma delle due giornate di squalifica. Chissà se cambierà idea nelle prossime ore.